ciao a tutti bentornati sul mio canale ho preparato per voi un nuovo tutorial voglio condividere con voi il mio ultimo acquisto questo set di sei pennelli della marca lofuana i pennelli mi piacciono sono molto colorati le setole sono buoni e hanno un ottimo rapporto qualità prezzo siccome il pennello è nuovo la prima cosa che facciamo con movimenti molto fini togliamo il residuo della colla io personalmente amo i pennelli più sottili quindi con una tronchesina con movimenti circolari vado a sottiliare il pennello sulla base gel applico il glitter questo colore che fa molto di moda adesso che si chiama reflective si riflette alla luce del flash e Grazie a tutti. 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 Spolvero sopra la polvere fusi e asciuggo il lampada.